Ciao ragazzi, in questo video parleremo dell'opiccolo e vedremo in particolare che cosa significa che una funzione è opiccolo di un'altra e come questo possa essere ricollegato all'idea di equivalenza sintotica di cui abbiamo parlato nel video precedente. Senza perdere altro tempo, diamo subito un'occhiata alla definizione. Date due funzioni f di x e g di x, definite in un intorno di un certo punto x con 0, si dice che la funzione f è 1 piccolo della funzione g se il limite per x che tende ad x con 0 di f di x fratto g di x è uguale a 0 e in questo caso si utilizza questa notazione. Da un punto di vista intuitivo, dire che la funzione f è 1 piccolo della funzione g quando x tende ad x con 0, è un po' come dire che la funzione f risulta infinitamente più piccola se confrontata con la funzione g quando ci si avvicina al punto x con 0. Per fissare meglio le idee e capire bene di che cosa stiamo parlando, diamo subito un'occhiata ad un esempio e cerchiamo di visualizzare la situazione da un punto di vista grafico. È facile convincersi che la funzione x quadrato sia 1 piccolo della funzione x per x che tende a 0. Infatti, se facciamo il limite per x che tende a 0 del loro rapporto, vedete che ci dà come risultato 0 e l'avere il limite del rapporto uguale a 0 è proprio la caratteristica necessaria per poter dire che la prima è 1 piccolo della seconda. Ora, se grafichiamo la situazione e andiamo a vedere che cosa succede in prossimità di x uguale a 0, vedete che la funzione x quadro che vi ho rappresentato qui con il grafico giallo assume dei valori che sono piccolissimi, praticamente trascurabili, se confrontati con quelli che assume la funzione viola, ovvero la nostra x. E dunque capita il senso dell'interpretazione intuitiva di cui vi parlavo poco fa. È un po' come se la funzione x quadro fosse infinitamente piccola se confrontata con la funzione x in prossimità del punto x uguale a 0. Capito questo? Diamo un'occhiata a qualche altro esempio. x alla terza è 1 piccolo di x per x che tende a 0, perché infatti se facciamo il limite per x che tende a 0 di x alla terza fratto x, otteniamo 0. E analogamente anche 8x alla quarta è 1 piccolo di x per x che tende a 0, perché di nuovo se facciamo il limite del loro rapporto il risultato che otteniamo è 0. E fa 0 vedete anche il limite per x che tende a 0 del seno al quadrato di x fratto x, il che ci dice che la funzione se inquadro è 1 piccolo di x o se preferite che la funzione se inquadro assume dei valori infinitamente piccoli se confrontati con quelli della funzione x in prossimità di x uguale a 0. Sicuramente qualcuno di voi avrà notato che queste tre funzioni, che sono molto diverse tra di loro, sono tutte e tre uguali ad o piccolo di x quando x tende a 0 e questo potrebbe creare qualche perplessità la prima volta che uno vede una scrittura di questo tipo. A tal proposito è importante avere chiaro che la notazione o piccolo di x non denota una funzione in particolare, ma in generale qualsiasi funzione che goda della proprietà espressa dalla definizione, ovvero di avere il limite del proprio rapporto con x che fa 0. E naturalmente lo stesso discorso si può fare quando al posto di x c'è una funzione qualsiasi. Di nuovo, lo piccolo indicherà una qualunque funzione il cui limite del rapporto con quella lì faccia 0 nel punto che state considerando. Ah, da questo fatto seguono alcune proprietà molto interessanti dello piccolo con cui vale la pena familiarizzare fin da subito visto che poi le useremo nel risolvere i limiti con Taylor. Ad esempio, o piccolo di x meno o piccolo di x non fa 0 come potrebbe venire da pensare ma fa invece o piccolo di x. E questo perché se prendiamo una cosa infinitamente piccola rispetto ad x, diciamo trascurabile praticamente rispetto ad x, e gliene togliamo un'altra anch'essa infinitamente piccola, noi non sappiamo esattamente che cosa avviene, però siamo certi che il risultato di questa operazione sia a sua volta sostanzialmente trascurabile, infinitamente piccolo, se confrontato rispetto ad x. La cosa naturalmente vale anche nel caso dell'addizione e anche se al posto di x abbiamo una generica potenza di x. Quindi avremo che o piccolo di x alla n più o meno un altro o piccolo di x alla n da come risultato o piccolo di x alla n. E' poi interessante notare che un o piccolo di x alla n moltiplicato per un o piccolo di x alla m dà come risultato un o piccolo di x alla n più m e similmente se moltiplico x alla n per un o piccolo di x alla m il risultato sarà certamente o piccolo di x alla n più m. Vale poi la pena di notare che quando x tende a 0 x alla n è un o piccolo di x alla m se n è maggiore di m il che significa sostanzialmente che le potenze con l'esponente più grande sono degli o piccoli delle potenze con l'esponente più piccolo. Ad esempio vedete x alla terza avevamo scoperto prima è un o piccolo di x che significa che x alla terza è molto più piccola di x in prossimità di 0 e qualcosa di analogo avevamo scoperto prima confrontando x quadrato ed x x quadrato è uno piccolo di x quindi capite che le potenze con l'esponente più grande sono infinitamente più piccole potremmo dire sostanzialmente trascurabili rispetto alle colleghe che hanno un esponente più piccolo e da questo fatto segue naturalmente che quando sommiamo due o piccoli di due potenze diverse di x alla fine sopravvive solamente quello che ha all'interno la potenza con l'esponente più piccolo. L'altro nel momento in cui facciamo il limite per x che tende a 0 diventa trascurabile in questa somma rispetto all'altro che è preponderante e quindi è del tutto ininfluente è un po' come se venisse mangiato da quello più grande. Fa parentesi la prima volta che uno vede tutte queste proprietà potrebbe avere l'impressione che siano un pochino ostiche. In realtà come vedremo bene nei prossimi video il loro utilizzo nella maggior parte delle applicazioni ed in particolare nella risoluzione dei limiti con Taylor è abbastanza meccanico e non così complicato ed è una di quelle cose con cui vedrete si acquista confidenza mano a mano che si fanno gli esercizi. L'ultima cosa che volevo dirvi è che l'equivalenza sintotica di cui abbiamo parlato nel video precedente e lo piccolo sono due cose che da un certo punto di vista sono collegate. Si può infatti dimostrare facilmente che per x che tende ad x con 0 f di x è assintoticamente equivalente a g di x se e solo se f di x è uguale a g di x più uno piccolo di g di x il che significa sostanzialmente che le due funzioni sono assintoticamente equivalenti se e solo se differiscono per un termine che diventa trascurabile nel momento in cui facciamo il limite per x che tende ad x con 0. Naturalmente alla luce di questa equivalenza possiamo descriverci tutte quelle equivalenze assintotiche che avevamo ricavato a partire dai limiti notevoli sotto forma di corrispondenti sviluppini che coinvolgono lo piccolo. Ad esempio dire che per x che tende a 0 seno di x è assintoticamente equivalente ad x è un po' come dire che sen x è uguale ad x più uno piccolo di x cioè più un termine che diventa trascurabile se confrontato con x quando x tende a 0. E analogamente da uno meno cos x asintoticamente equivalente a un mezzo x quadro possiamo concludere che allora uno meno cos x è uguale a un mezzo x quadro più uno piccolo di x quadro. Notate per inciso che in base a quanto dicevamo poco fa qui sotto avrei dovuto scrivere un mezzo x quadro più uno piccolo di un mezzo x quadro visto che vedete bisogna scrivere la stessa funzione davanti e dentro lo piccolo. Tuttavia è facile dimostrare che eventuali costanti numeriche moltiplicative dentro lo piccolo sono irrilevanti ed il motivo se ci pensate è anche abbastanza intuitivo. Infatti se una cosa è infinitamente piccola se confrontata con un mezzo x quadro quando x tende a 0 in particolare risulterà infinitamente piccola anche se la confrontiamo direttamente con x quadro. Quindi in generale ogni volta che vi trovate uno piccolo di k volte x alla n dove k è un numero potete descrivervelo più semplicemente come o piccolo di x alla n visto che la costante moltiplicativa come dicevamo è ininfluente. Ma naturalmente così come avevamo già visto per le equivalenze asintotiche tutti questi sviluppini restano validi anche quando come argomento delle funzioni non c'è x ma c'è una generica f di x purché questa sia infinitesima. Ne seguo quindi volendo fare un esempio che in una somma di termini come questa il seno di x alla terza in base a questo sviluppino qui potrò descriverlo come x alla terza più uno piccolo di x alla terza e analogamente il logaritmo di uno più due x alla quinta in base a questo sviluppino qui diventerà semplicemente due x alla quinta più uno piccolo di x alla quinta quando x tende a 0. E tutto questo in base alle proprietà di o piccolo di cui parlavamo prima diventa semplicemente x alla terza più o piccolo di x alla terza visto che tre x alla quarta e due x alla quinta sono entrambi degli o piccolo di x alla terza visto che sono delle potenze con esponente più grande e quindi sono trascurabili rispetto a x alla terza quando x tende a 0. E inoltre in una somma di o piccolo come dicevamo prima sopravvive solamente quello che ha al suo interno la potenza con l'esponente minore. Appurato questo disponiamo finalmente di tutti gli ingredienti fondamentali per poter affrontare la formula di Taylor e di questa parleremo diffusamente nel prossimo video. io per il momento ragazzi vi saluto come sempre se avete trovato utile il video ricordatevi di mettere mi piace passate a trovarci sulla pagina facebook e date un'occhiata all'interno del canale dove troverete moltissimi altri video ciao! Grazie a tutti.